Le industrie belliche hanno capitale importanza nella vita della nazione. Il loro funzionamento a pieno regime assicura una sempre maggiore disponibilità di mezzi alle nostre forze armate. In questo grande stabilimento vengono fabbricati a ritmo celere i motori per gli apparecchi dell'arma aerea fascista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.